E' di quattro migranti salvati e uno disperso il bilancio di una complessa operazione di soccorso messa in atto questa mattina a 20 miglia dai vigili del fuoco. Il gruppo di stranieri aveva passato la notte in un pilone del ponte dell'autostrada nel greto del fiume Roia e stamani è rimasto intrappolato dalla piena. Due uomini presi dal panico si sono gettati in acqua e soltanto uno di loro è stato trovato e tratto in salvo mentre l'altro risulta disperso e le sue ricerche sono state estese al mare con l'intervento della capitaneria. I soccorsi sono stati effettuati da specialisti dei vigili del fuoco con l'impiego dell'elicottero e di una particolare piattaforma di una ditta privata che effettua manutenzioni dei viadotti per l'autostrada. I tre recuperati con tecniche alpinistiche sul pilone sono due donne e un uomo e stanno bene. Il terzo migrante salvato dalle acque del Roia in piena è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Sono intervenuti anche polizia municipale, carabinieri, polizia di stato, 118 e ambulanze. Anche il sindaco Enrico Ioculano si è recato sul posto per seguire le operazioni di salvataggio.